Bassano, il 21 settembre si terrà la giornata mondiale sull'Alzheimer. Nel 2015 l'ULS ha preso in cura 1123 persone colpite da questa terribile malattia e sono state erogate 2700 prestazioni grazie al lavoro di medici, geriatri, neuropsicologi ed operatori sociosanitari. A questo, ha detto il direttore del servizio sociale della funzione territoriale dell'ULS, Alessandro Pigatto, si aggiungono le attività dei volontari dell'AMAD. I volontari coordinati dai tecnici sanitari ospitano gratuitamente persone affette da demenza di grado lieve in quattro centri sollievo per due tre volte alla settimana. L'ULS 3 collabora inoltre con la regione Veneto ed i comuni nelle procedure per erogare contributi economici. Vi sono circa 115 nuclei familiari con pazienti con gravi disturbi comportamentali a cui sono stati assegnati dei soldi mensili per una somma complessiva superiore ai 388 mila euro annui.